Ma raga ma se vi dicessi oggi completiamo minecraft Eh? Vi va? Vi va? Beh facile si si può fare Facile? E se ti dicessi diamo un proprio un tocco più piccantello? Eh? Dobbiamo farlo? Di cosa stai parlando? Ok andiamo Oh no! No! Aiutami! Allora ragazzi come avete visto è tutto molto difficile oggi Anzi è tutto molto storto Infatti oggi proveremo a finire minecraft In questo video Con il mondo completamente capovolto Grazie a queste ancore magiche Tutto può succedere ragazzi Vi consiglio di venire da questa parte adesso Forse è meglio Perché appena facciamo così Opla Ragazzi Ma è me Io Dov'è Tano? Dov'è Tano? Dov'è Tano? Io ho fatto una brutta fine Ok Dai ragazzi ora minecraft è normale No scherzavo Perfetto Ciao Aspetta arrivo Arrivo Allora Abbiamo un problema Dobbiamo sopravvivere in questo modo E battere l'ender dragon Così Allora Tano Funco Dobbiamo spostarci da qui Ed è un problema Perché rischiamo di morire Ho un'idea Ho un'idea Dove riaggiungere un albero E per di qua ho visto degli albri Giusto? Sì Ok Ma forse è meglio se scaviamo per terra Esatto Ci devi fare così Tano Guarda Scava così Ok Entra qua Ho paura Io non me li sento giusti Ok Ok Aspetta aspetta Guarda Devi fare così Tano Perché sento una strega? Non fare domande Tano Sarà tua sorella Seguitemi Sto facendo la strada Ok Ho bisogno di altre dirt Te la passo io No 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 Ti l'hai fatta cadere Aspetta Non lo sapevo Allora Continuo Dobbiamo scendere ancora Scendi Passimi la dirt ora Vai Ok Perfetto Ho c'è un albero qua Ho un'idea Aspetta Tano Ci buttiamo? Vado Ok Ohiai Porca Cazzo Fa male Molti Tano Ok Se ti butti qui Prendi meno danno Sì Io vado con calma Va bene Io intanto Spacco l'albero Però dobbiamo far attenzione Ok Oh è stato Stonks Allora Dobbiamo fare così Spacco l'albero ragazzi E facciamo subito Altresi di base Va bene Se me lo spacchia Si stroppano le foglie È la fine Beh Non farlo Vabbè 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 Tieni tutto albero Sì Mi figlio il mio albero Tu Vuoi farmi fare una brutta fine Comunque Ragazzi Vi do ancora il benvenuto A questo video Molto Strano E molto Stupido A quanto pare Il video come sempre Lasciate un mega mi piace Iscrivetevi al canale Subito Se ancora vi siete iscritti Attivate anche la campanellina Se vi iscrivetevi la prima volta Fatemi sapere qua sotto Con un commento E soprattutto Questa sera Alle 20 live Su Twitch Che succede È partito È partito Allora Ho io adesso Già del legno Posso fare una crafting No Legno vini qua Ok 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 Posso farmi Già L'idea ragazzi è che inizia subito con una pala Mi sa Forse una pala per scavare la dirt Ok E faccio anche Un piccone A posto Allora Adesso io Posso muovermi molto più facilmente Oh C'è dell'acqua Questo deve essere interessante Ok Piano Ecco Abbiamo già un problema Serve cibo E come facciamo Non lo so Io stiamo Pian piano cerco di scendere Ciao Ciao Dove siete finiti Tano dove sei Io sono in fondissimo emerald Sto provando a risalire Ok Provo a risalire Perché io qua ho intravisto Dei maiali Chi c'è qua sotto Ah ok sei tu Andiamo andiamo Ma quanto in fondo Perché forse Sono dove sono i maiali Eh ma per me In fondo Non è il fondo Aiuto Infatti non so cosa sia il fondo Anche se l'ho toccato E noi dovremmo anche Finire minecraft così Ma scusa Nel land Non è bello Non lo so Non lo so Tano Allora ho un'idea Ho un'idea Aspetta Figuro Puguro un attimo Entra qua dentro E pigliamo Della stone Ok Facciamoci delle cose in stone Stone intanto Perfetto Ragazzi Sarà difficilissimo E soprattutto ragazzi Vi vedo ancora A lasciare un like Mi piace Cerchiamo di superare I 10.490 like Perché se andremo a superare Vi porterò un altro video così E anche una live E anche una live su twitch E anche ragazzi Una live Come sempre I link in descrizione Cioè ragazzi Guardate cosa strana Cioè io salgo Ma in realtà Starei andando dritto Così Aiuto Vabbè Intanto Allora Puoi fare un'altra crafting Vabbè Falla 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 Legno Legno Eh ma io sono tipo sotto di te Cioè ma il sotto Sotto Oh Ciao Tano Sotto Sì Ciao Tano come sta Hola Ma insomma Piazza la crafting Ok Allora facciamo subito Delle Degli attrezzi In pietra Tu ce l'hai le robe in pietra Cioè puoi fartele Figuro Ce l'ho io la pietra Io ho otto pezzettini Tieni 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 Io adesso Ragazzi cerco di prendere subito I maiali Per un poco di cibo È Difficilissimo come cosa Ma ci proverò Allora Ma poi facciamo anche la casa Eh chissà Può essere in un prossimo video Il boettino di oggi sarà Lasciare il drago Dice del coal Eh bisogna prenderlo Eh sì Eh devi scendere Ah ma tu sei andato dai maialini Eh sì sono andato dai maiali io Cioè abbiamo bisogno di cibo Secondo me la miglior strategia È quella di andare sulle montagne Perché alla fine È come se facessero un po' un pavimento Sì Tano Come fai a scendere poi dalla montagna dopo? Io Dai per favore Non voglio pensarci a queste cose Ecco Ecco Il problema è che si pensa dopo Prima si creano Sono pazzo No 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 Pazzo futuro pazzo Faccio maiale qui Cibo Cibo vieni qua Ciao Bacon Come stai? Eh me ricordate che se dai il nome agli animali Poi non riesci a killarli Ah Vieni qua No è impossibile Ok Ok Ah con l'acqua si può anche risalire volendo Beh certo Ok Ho chiede le bracione Ho preso il cibo Ok non è nell'albero Perfetto Vieni qua meglio No dove stai andando? Torna qui Torna qui Ti voglio bene Vieni qua Bravo Ciao È tutto così strano Mi auguro non farlo Non risalire così No che stai combinando Allora se tu provi a risalire con l'acqua Capisci che qualcosa non va nella tua vita Beh sì Ragazzi dobbiamo entrare poi subito in una miniera Per forza Ok Sono quasi arrivato Allora anche la pecora Anche la pecora Oh cacchio C'è un maiale lozzante Ok allora Allora Questo ragazzi È dritto Per noi Quindi devo ritornare Sopra Quindi Così Ok Eh lo so Fuguro ma Aspetta Ok Ok Arrivo Arrivo Aspetta Arrivo arrivo Piano piano Ora arrivo anch'io ragazzi Ok raga Allora ho un problema adesso Facciamo una cosa Dobbiamo cercare subito una miniera Per forza Dobbiamo potenziarci Eh in questo modo possiamo farci anche le fornaci Armature eccetera Perché io ho quattro cuori e mezzo Io voglio con la pecora Ma un po' di cipetto di averlo trovato no? Sì 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 Ma adesso mi serve il coal C'è il coal e la cobblestone La prezzo fu curo o il coal? Ok Guardate di lato positivo Noi possiamo scendere in miniera E per noi andare dritto Quello sì Però dobbiamo orientarci per andare verso il basso E infatti sono già verso il basso Potenzialmente questo è il basso Sì Allora Ragazzi No 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 aspetta aspetta Noi siamo verso il basso Cioè per noi il dritto è il basso Sì Ok Stanno prendi la torcia Stiamo camminando verso il centro della terra Dove è finita? È qua sotto Dobbiamo adesso scendere pian piano Cercare del ferro Farci le armature E poi Sono subito i diamanti Per andare nel nether Però veramente sembra di camminare dritto Ma guarda le torce È appunto Esatto Lo so Lo so Guardala Allora possiamo buttargli la spazzatura addosso Oh no raga Finitela 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 Scendiamo Scendiamo ancora Ma intanto non potete craftare Tipo voi una fornace La mettete qua E qui ci siamo Assolutamente Ma vai 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 Del legno ce l'avete Io non te dici pezzi Io ho 24 Ok Buono buono Quindi Nelle eventualità in cui trovasse la va in faccia Ferro La trovi in faccia La trovi in faccia ma non cade verso di me No esatto Ragazzi ho trovato già il ferro Ottimo Quindi ora Già possiamo fare qualcosa di più serio Abbiamo 6 pezzettini di ferro Non è male Altro ferro Altro ferro Altro ferro Perfetto Ok Più ferro abbiamo E meglio raga Assolutamente Deve sarebbe trovare appunto una caverna Dividerci un attimo In modo che ognuno si può potenziare E poi da lì Cercare i diamanti Ma eh Ad esempio I mob sono dritti Sì Come facciamo a combattere Con ad esempio uno scheletro Che ci arriva da Una Gravità diversa Esatto Come E questa è una cosa difficile Tano Guardami come sono Ma tu adesso ti fai il problema con lo scheletro Immagina il drago Immagina il drago Dai Allora Io lì Mi sono già dato per perso E questo è il punto Apro ferro Sì raga cercate tanto ferro Oddio le fornaci start Ok ragazzi Mi sto adesso craftando Il corpetto Perfetto Ho già fatto un paio di utensili In ferro E scavando un pochettino Ragazzi Anche se Così stiamo scendendo Verso il basso Non stiamo andando dritti Vi ricordo Abbiamo trovato Secondo i suoni Qua Del Relson Che può tornare utile E soprattutto Sto sentendo Della lava Se riusciamo a trovare già dei diamanti E tanta roba Se troviamo della lava Possiamo già iniziare a fare Il portale Per il nether E per il nether Stiamo ad oltre 15 Ok raga c'è la lava C'è la lava Ho la trovata la lava Le diamanti Guarda 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 Ho scavato dritto E non so quanti siano Dove sei aspetta Ti ho perso Accanto a te Ciao Oh 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 Cacchio ho preso qua sopra Eccomi Ho detto Mentre loro parano E scavo da questo lato Guarda quanto erano distanti Ah Eh E al teatro 12 Ho detto Al teatro 12 scavo Dimmi che sono tre Dimmi che sono due Sono due Tano Oh tre Oh Quattro 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 Bene 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 Ok perfetto Ok ci siamo ci siamo Adesso Voglio ripirare proprio Quell'oro io Basta Io continuo a scavare dritto Allora io Mannaggia Sono caduto Ehi se scavo Faccio così Faccio un pillar E mi avvicino sempre di più Allora non devo scavare qua Perché se no la lava Se ne va a quel paese Ok Attento anche No 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 Ok E' vero Perché è la gravità diversa Cioè è la gravità normale di Minecraft Che è diversa per noi però Esatto Quindi noi non sappiamo come ragionare Alla fine Sì ma è questa infatti ragazzi La cosa è difficile Dovrei esserci più o meno Perché qui c'è della lava No viene verso di me Occhio ho trodoloro Ho trodoloro Quanti pezzi? Non lo so Uno Due Tre È un bel poco Un bel poco Purtroppo non c'è una mela d'oro Però Ma è un b Ho trodoloro Un materiale viola Un materiale viola? Aia Mi sono fatto malissimo Aspetta devo fare attenzione Qua scendere ora Pian piano 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 Mi scavo anche questa Questa qua Questa redstone ragazzi Un pochino di esperienza Ok Raga È arrivato il momento Serve dell'acqua E dobbiamo prendere L'ossidiana Oh cacchio Come? Come pensi di prenderla? Allora ho un'idea Però ho bisogno Di due secchielli O di uno Io ho 5 di Di ferro Ok aspetta C'erano le crafting Eh vabbè ma chi c'erro io Dino l'assolto Vabbè andiamo 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 Ok 13 di ferro Ottimo E facciamo subito Due secchielli Uno E due Ora È arrivato il momento Ragazzi Portale Del Nether Aiuto Ho un problema Dove sei Un super fish Che mi rincorre Come un super fish Eh sì È uomo Ho scavato alla destra Della pozza È lontano Ma io non voglio affrontarlo Perché poi so già Che ne spawneranno altri E non so come gestirmela Oh Ma ci sono degli smeraldi qua Oh no Altro ferro pure Ho sentito anche il super fish Sì sì Voglio scappare da qua Aiuto Aspetta arrivo Arrivo No come sei caduto Io non ti blocco so Oh cacchio Gli amici condividono anche i problemi Vero? Oh è rimasto Vero Non può fare qua Vediamo È più avanti Ma guarda lui non può venire È morto Ebbè È tattica questa Sì è vero Allora Adesso Dobbiamo fare il porto del Nether Vi ricordo Il porto del Nether Però De essere messo qua A terra Praticamente Qui faccio un attimo Un poco di spazio E scaviamo Il contorno Esatto Per il portale Ok Guardate che trick Che vi faccio Noi possiamo fare tranquillamente Così il portale Effettivamente Sì Ok ci siamo E adesso Guarda Tano Che figata Allora Io sono leggermente più avanti Allora Ho trovato anche altri smeraldi Mettiamo lava Dove prendere un sacco di lava adesso Fare così avanti e indietro Oh Ah no Aspetta L'ho fatto sbagliato vero No è giusto No è giusto È giusto così No è giusto È giusto Però aspetta Qua bisogna tappare Quindi devo mettere Altra lava qua Oh cacchio Sì è giusto Quindi altra lava qua Oh cacchio Allora quasi così Faccio una cosa Aspetta faccio Scusa Allora lascio un attimo qua l'acqua Ah Oh cacchio No no mi sto spingendo No 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 La lava la lava No No L'hai spenta No No mi prende l'acqua Affogo Dio lo sto affogando eh Melano Lo so del raga Ho fatto un casino Non so se l'hai spenta tutta Eh vado un attimo a vedere C'è un grifo No ok ok Ce n'è rimasta Ce n'è rimasta Allora Ok ora l'abbiamo messa giusta l'acqua Comunque se vuoi divertirti Ho trovato una caverna laggiù eh Ok aspetta Tano che è qua Ok dovrebbe bastare A me sta prendendo una forma strana Questo portale Tano Fidevi di me Sono un ingegnere Del mondo verticale Sì ma Aspetta C'è un problema Ok 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 Serve ora l'acqua Allora Tano Aspetta ma se semplicemente lo tappassimo Nei punti che non servono tipo Posso metterci poco davanti Non faccio il danno No è sotto Quindi facessi tipo così Esatto Allora ci mettiamo l'acqua Ok esattamente Se adesso faccio così Tano Dobbiamo prendere un attimo L'acqua ora Per forza Eccola Vediamo se funziona Ok Sì Ok Oh No 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 Aspetta Ok No L'acqua di nuovo laggiù Allora non è un problema Deve far diventare Ok Va benissimo così Va benissimo così Tutto sotto controllo Guardate Sbam Ossidiana Ragazzi Ultimo blocco Dovremmo esserci ora Adesso Dovremmo Eserci Se spacchiamo qua Qualcuno ha fatto un flintestil Stai parlando Io ho trovato la flint Ok Me la passi Me la passi Furo Wow Vieni qua Vieni qua Arrivo io Vieni 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 Hai già l'accendino Sì Accendilo Accendilo Yes Ragazzi Andiamo Andiamo Ho paura Ho paura adesso raga Ho paurissima Sapete che vorremmo crepare Sì Non scavare mai tutto eh No 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 Qua potrebbe essere Speramente la fine Stiamo attenti Allora adesso però Dobbiamo capire una cosa Noi dobbiamo trovare I blades Sarà un casino Allora ragazzi Abbiamo trovato la fortezza Pian piano Era proprio Attaccata al portale E stiamo Andando Versi i blades Che già ci sparano Ci sparano Quindi stai attento Sì esatto Fai molta attenzione raga Quindi andiamo adesso A scavare E dentro la fortezza E sarà Da un pochettino di Mi sono andato il piccone Io ho fatto un minimo Di pavimento qui Così non si cade Ma se facessi un salto No 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 Non rischiare Ho fatto l'ho fatto Ok Io non rischio Ho sopprendo dentro la fortezza Entra No aspetta 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 un problema qui E cadi di sotto tantissimo Sì Ok Raga vi faccio le scale così No Non me la sento Non me la sento In intorno Venite 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 Seguitemi Devo scendere così Beh da come stai facendo le scale Il problema sarà risalire Mi sa eh Tano Io sento brutti suoni qua E io non mi ricordo Da che altezza fossero Quei cosi Ho paura che ci sono Dei wither skeleton Ah eh sì Li ho sentiti Considera che la strada È questa qui Quindi saranno A destra o a sinistra Anche se non so bene Che cosa sia cosa Aspetta Ok qua possiamo camminare Tano Ah Guarda di qua possiamo camminare Tranquillamente Mi sa che sono sopra Tano Oh hai già il dito qua A sinistra c'è lo spawner O qualcosa Ecco ce n'è uno qui sotto Oh cacchio Senti ragazzi Gli enderman E ne abbiamo proprio Uno qui Ok raga È l'ultimo momento È la fine Avete il secchiello Sì Bene Ya Eh